E' finita con la terza sconfitta stagionale per il Salerno, questa partita che la squadra Blaugranna ha giocato a Pomigliano nel sabato pre-Pasquale. E' finita 1-0 per la formazione di casa con un gol siglato da Sorrentino dopo 11 minuti. Eppure Pomigliano che era partito bene con un palo colpito da D'Imporzano, poi c'era stata una gran parata ancora di Sestito sul tiro di D'Imporzano. Però poi a un certo punto una svolta del match con Maraucci che aveva fermato, placato Caputo che se ne stava andando da solo verso il portiere e allora l'espulsione di Maraucci. Squadra di casa in 10, sembrava ovviamente un vantaggio per il Salerno ma un minuto dopo, pasticcio difensivo tra Sestito e Puglisi, la prendo io, la prendi tu, l'ha presa Sorrentino che ha segnato all'undicesimo il gol che poi è quello decisivo, che ha deciso appunto la partita. Va detto che nel corso della prima frazione il Salerno che si schierava con questi tre centrali difensivi, due esterni, con Munar al centrocampo, non si è sviluppata come Perrone avrebbe probabilmente voluto perché le giocate erano lente. Insomma a nostro avviso il Salerno ha regalato un tempo all'avversario pur costruendo a ridosso della mezz'ora nel primo tempo con Munar e Caputo al trentaduesimo e successivamente al trentanovesimo ancora con Caputo sugli sviluppi di un calcio d'angolo delle buone opportunità. Poi nel finale si è fatto vedere anche Munar. Munar giocato al centrocampo avrebbe dovuto un po' aprire il gioco così come Montervino però insomma le giocate erano poco rapide e questo ha costretto Munar e Montervino ma soprattutto i francesi addirittura spesso ad andare nella propria metà campo a prendersi il pallone. Nella ripresa Perrone ha poi gradualmente ridisegnato la squadra perché è entrato anche Gustavo, poi Chirieletti ha preso il posto di Chiavaro che intanto si era spostato sulla sinistra perché era uscito a Bagliano. Insomma il Salerno ha avuto varie occasioni, subito con De Cesare un diagonale terminato di poco fuori, poi al dodicesimo con Caputo parato il tiro dal portiere d'Agostino, il migliore in campo. Ancora D'Agostino che è uscito su Caputo al diciassettesimo tempestivamente neutralizzando questa sua azione, poi una rovesciata di Munar a colpo quasi sicuro al centro dell'area ma non è andata e successivamente nella parte conclusiva della partita D'Agostino è stato molto attento al trentasettesimo su Caputo e poi una palla goal avuta dal numero dieci del Salerno che è stata neutralizzata, inscivolata da Scognamiglio. Insomma sul piano dell'occasione il Salerno avrebbe potuto tranquillamente pareggiare, avrebbe probabilmente anzi sicuramente meritato il pareggio, ma ha trovato dall'altra parte un portiere, un diciottenne appunto D'Agostino che ha neutralizzato le giocate di Munar e Caputo in particolare. Cosa dire, forse la differenza l'hanno fatta proprio i portieri. D'Agostino, migliore in campo, diciotto anni, dall'altra Sestito con questo pasticcio difensivo. Ora i punti di vantaggio sul Marino sono sei e mancano però quattro giornate. Domenica in casa il Salerno ospiterà il Porto Torres dallo stadio Gobbato di Pomigliano d'Arco. Questo è tutto, a voi la linea.